Una grandissima azienda del Lazio, Principe Pallevicini, si è presentata a noi con un prodotto che ha messo in commercio quest'anno, ma in realtà è un 2006. È un uvaggio, a base immagino di frascati, però sentiamo le sensazioni che ci dirà Renato. Bene, la prima azienda Laziale che abbiamo a disposizione, o meglio che rientra a far parte delle nostre cantine da degustare, è un bel uvaggio e sicuramente è un vino che non ci deluderà. Io ho già avuto modo di assaggiarlo, posso dirvi che le sensazioni che ci dà questo vino sono di un vino che ha fatto i suoi anni, è un vino che è del 2006, ma si mette in commercio quest'anno perché l'azienda ha voluto dare un'importanza a questo vino, concedendogli quegli anni di cantina che il vino bianco ogni tanto deve avere. Proviamo subito il vino al naso e anche in bocca. Un bel lavoro, un bel lavoro di cantina, un bel lavoro di uvaggio, è bello, un bel vino. Mi stupisco piacevolmente di questa cosa, anzi spero che ce ne sia una bottiglia perché me la porto a casa io. Salute a tutti!